Perfetto, Hotel Eccelzior Napoli, siamo in compagnia del generale Vannacci, generale finalmente a Napoli, lei ha girato praticamente tutta l'Italia, oggi abbiamo il privilegio di averla qui a Napoli. Generale, discussissimo, però io gliel'ho fatta in privato questa domanda, ma chi gliel'ha fatto fare il generale questa cosa? Ma è stata una scrittura di articoli fondamentalmente, che partono da quelli scritti per questioni di affermare un pensiero, soprattutto per quelle tematiche di origine scientifica, mi riferisco soprattutto alla parte energia e alla parte ambientalismo, perché non mi ritrovavo in quello che veniva diffuso su moltissimi talk show e su moltissime trasmissioni in tv, e quindi mi sono detto scrivo qualche articolo, lo faccio pubblicare e poi da una tematica si passa all'altra, l'appetito viene mangiando e da lì è nato un libro, uno dei libri più controversi che siano stati pubblicati. Che lei purtroppo è stata costruita a scrivere un secondo libro per spiegare che hanno capito male il primo libro. Beh, non è proprio così, diciamo che il secondo libro mi ha dato l'opportunità per dare la chiave di lettura originale, ovvero quella dell'autore, perché il primo libro è stato volutamente travisato e soprattutto è stato interpretato in mala fede, perché chiunque aveva la possibilità di capirlo secondo quella che era la sua natura originale, invece molti si sono divertiti a modificarne il significato e a far crescere il caso vannacci ed il caso il mondo è al contrario. Quindi il secondo libro invece toglie ogni possibile dubbio, è certo che è riferito però a una piccola fetta di società, perché quelli che si sono incarogniti nell'interpretarlo in mala fede non cambieranno certamente idea. Io vi sono ripromesso di non fare le domande politiche, perché siamo qua per parlare dei libri e non di politica. Però io una domanda vorrei fargliela così proprio per, come dire, per accarezzare un pochino il palato. Lei ha scelto un partito che qui a Napoli non è proprio amato. Perché? Guardi, io non ho mai negato di aver avuto contatti con altri esponenti di altri partiti. Devo dire che la scelta intanto di scendere in politica è stata una scelta travagliata, è stata una scelta maturata col tempo, in quanto presuppone un cambiamento totale di quella che è la mia vita e anche una modifica di quelle che sono le relazioni con quelli che sono gli affetti più cari, la mia famiglia. E devo dire che... Certo, certo, certo. Infatti è stata una scelta che poi è stata presa insieme con mia moglie. E' stato molto meditato, perché ho letto molto di lei, ho studiato. E devo dire che io ringrazio chiunque mi abbia offerto questa opportunità. Perché la Lega? Intanto perché c'è stato un feeling con il rappresentante della Lega, il segretario, il ministro Matteo Salvini, che sin dall'inizio ha mostrato empatia e ha mostrato anche una certa curiosità riguardo le tematiche che io avevo espresso nel libro. Si è sempre manifestato a favore della libertà di espressione. Con lui non ci sono state interlocuzioni frequenti, però quelle che ci sono state sono state sufficienti per far nascere... Io sono poche, tre o quattro in tutto. Esatto, poche interlocuzioni. Ho studiato, le ripeto, ho studiato tanto su di lei. Ultima domanda e la lascio ai colleghi, da grande. Lei cosa vuole fare? Ma intanto vorrei cambiare l'Europa. Perché quella che ci hanno proposto fino adesso sinceramente non mi piace. Rappresento dei valori che penso di aver esposto in maniera molto chiara nel mio libro. Lavori come la patria, la sovranità, la famiglia naturale, la sicurezza. E ritengo, e l'identità soprattutto, sia nazionale che europea. E ritengo che un'Europa senza un'identità propria non sia possibile da far crescere in futuro. Noi siamo europei, siamo italiani, non ci possiamo vergognare di questa nostra caratterizzazione specifica. Anzi, dobbiamo esaltarla per far crescere un'Europa che in futuro possa continuare a essere fonte di ricchezza, di benessere e di progresso. Grazie generale. Il generale dice delle cose talmente ovvie che sembrano veramente molto strane. Ma sono le cose che probabilmente il 90% degli italiani pensano ma non hanno il coraggio di dire. Grazie a tutti quanti voi. Alla prossima.